E' un luogo? Ivan, tu dove andresti? Mancano pochi giorni ormai. Secondo i miei calcoli l'asteroide precipiterà sulla Terra. Sono i tuoi calcoli. Quali calcoli Cosmo? Tu pensi che io mi diverto a far entrare quella gente? Devo farmi umiliare così. Ma non si può fare proprio niente. Se non facciamo questo colpo mi tengo tutto io. Dalla tua parte te la ascolti. Ma cosa ti fa schifo? Un posto fisso? Un posto sicuro? Vuoi guadagnare di più? Molto di più? Non so cosa pensare, padre. Com'è la mia roba? Com'è la mia roba? Com'è la mia roba? Sta per passare molto vicino alla Terra l'asteroide forse più grande di sempre a livello di quelli captati e monitorati. Tutti. Pเทicolò Tecnicità Qui Penso che me ne devo andare. Andare a dove?